Ok, fammi arrivare qui, salve a tutti, stacca tantissimo, non ti devi permettere tu di attaccarmi, innanzitutto, però io vi ho convocati qui con il SGVM che non sta seduto, perché abbiamo una missione molto importante da fare. Perché? Finiti per Bonin, allora, dobbiamo andare a proteggere il nostro unico villaggio e farci sicuramente una stradina, quindi, dividiamoci i compiti. SGVM farà la stradina da qui fino al villaggio, che è tantissimo, poi faremo un porto, prima faremo un porto, però ci servirà poco legno in realtà, non troppo. Poi noi due faremo, anzi io, vedrò un pochino di ristrutturare le case, vedo un po' come fare, mentre tu farei le mura. Le mura saranno alte, vediamo se c'è pieno di alberi, ma... È in pienura. Quindi non... No, prima di tutto, lo mettiamo in legno. Allora, dove il villaggio... Il villaggio sta... Hai visto ora dove c'è la forresta di Abete? Ok. A fianco c'è una pianura, e in quella pianura ci sta il tutto, quindi venite, che ci mettiamo in viaggio. Purtroppo, solo Bedin ha un cavallin, noi non ce l'abbiamo il cavallin, però abbiamo le barche, vero? No, 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 no. Non c'è più, senza zazio. Ok, bellissimo. Va bene, venite tutti qui, SGVM sta fermo, va bene? Ah, tra l'altro, facciamo vedere... Esatto. Saliamo su Bedin. Non puoi passare, perché abbiamo fatto una roba bellissima. Tu fai così, e non puoi passare. Sì, raga, andiamo, raga, andiamo, andiamo. Corsi, corsi, tantissima corsa. Comunque, basta che fai... Se c'è il beacon, basta che fai il salto, serve. Ah, è vero. Ah, tra l'altro, è vero, abbiamo fatto i beacon, se è stupli. Sia da Bedin, sia da noi. La casa... Aspetta, una cosa. Non spoileriamo casa nostra. Casa di SGVM è mia. Ma, basta, non lo possiamo vedere. Ah, giusto. Io che mi... Benitroiet. Qui abbiamo la skin di RikaiBedo7. RikaiBedo7. Non... Non fate... Cioè, non dislikeate il video, soltanto perché c'ha i fuochi, le mani e i piedi. Però, vabbè... Eh, per loro è fuoco, perché loro non sanno. Quindi... Perché ancora la sera la devo portare. Non l'ho ancora portata. Ah, giusto. Bene, bene. No, l'ho portata, però in live. Esatto. Intanto... Intanto... Prima... Oh, calco... Oh, zack! Dov'è la montagna? La montagna è quella laggiù. Stiamo facendo il monte Eiboth. Con... Con... Con il... Quella con crit. Abbiamo fatto neanche lo scheletro di ciò che dovremmo fare, però va bene. Tornate indietro tutti che prendiamo le barche e andiamo sub... Sì, 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 sì. Intanto, intanto, no? Io crafterò le barche, a meno che non le devo proprio prendere, ma io spero di no. Penso ci siano già. Magari... Eh, bestia! Allora... Qui abbiamo tolto il cancelletto. Intanto... Nei polli. Le barche dove le avete messe? Forse nella redstone? No. Non abbiamo delle barche. Questo qui potrebbe essere un problema molto grande, però va bene. Le graffi... No, no, adesso... Quindi... Ah, uh, G! Raga, qualcuno deve andare a nuoto. Che andrà a nuoto? Bedin. Allora, craftatela, no? Ah, bravo. Andiamo. Andiamo. SGM, ti puntiamo la barricca qui. Intanto noi andiamo. Mi sa che non possiamo... Eh, no. Vabbè, rompila, andiamo. Intanto... No, raga, basta. Basta. Ho detto sette volte in tanto. Ah, con i livelli. Ah, è vero, la farm. Allora, abbiamo fatto tre farm. Vabbè, avete già visto... Ho due farm, le avete già viste in video. Quella di farm di polli. Quella di scheletri. E basta, mi pare. Forse anche quella di... No, anche quella di zombie. Quella che è quella di zombie. Non ci sono tre. Ah, è vero, il regno scuro. L'abbiamo scacciato finalmente, il regno scuro. Intanto, Bedin, metti la park in. Vai, vai. Andiamo. Dobbiamo andare dritti. Hai visto dove c'era la zona del Wither? Più avanti, dove c'era la giungla di Ab... Eh, si è! La foresta di Abeti? No. Allora. Allora, c'è una cosa che poi... Si sa la differenza dal vulcano che ha fatto... Eh, la montagna è gigantesca. Tra l'altro l'ha fatta solo perché noi non possiamo, noi siamo poverissimi. A parte le armature... E le armi. Ah, oddio! Dei pigon. Ho tre teste di scheletro. Skull. Cioè, quelle di neri. Che comunque sono molto... Buone. Comunque, per la gente, casa mia comunque è ancora quella. Eh, ma non è quella. È un'altra. Adesso. Che bellissima. È bellissima. E in realtà è ancora in costruzione perché è una casa che non è mai finita, è infinita. Nita per bull. Quindi... Eh, siamo arrivati. Buono. Togliate le barche. Uno con la mano. Va bene. Sarà un reggio molto lungo. Madonna. Ma che è successo qua? Ma la moria di cresci. Raga, la fine è qui. Ando tutto. Cos'è il Nagasaki? Non è più perché... Ma poi gli rimetti tutto. Tutto. La morte. Ha cercato di colpirmi undici volte. Ma non è riuscito ad arrivarmi. E qui c'è il buco bellissimo. Guardate il Wither. L'arena del Wither. Che se ci finisco io muoio. Crepo. Basta. Beh, dobbiamo... Dobbiamo andare. La bar... Le barche, le barche. Mettete le barche. Ah, ah, già. G! No, 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 è sbagliato. C'è l'enderman, no? Devi andare a destra. No, ho preso il più sbaglio. Vai, avanti, andiamo, presto. Il tempo scorre. Ma... Inizio a sinistra. Ma che cazzo... No, 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 sinistra, sinistra, sinistra. Sinistra, lì è bloccato. Non so manco dove è sinistra. Non ho barca, tt. Iniziate, avanti, avanti. Ecco, ho visto già la larga. Ma io la chiamo giungli di abete. Ci sanno, ha item blu. No, questo c'è su qua, veramente? Sono morti, è morto qualsiasi cosa. G Eh, beh, pure per me... Ok, andiamo avanti, il più possibile. Ah, raga, vabbè, devo fare tutto. No, dopo dopo metto il messaggio in quel lato. Ok. No. Eh, vabbè, siamo arrivati. Siamo arrivati, intanto. Intantissimo. Beh, di sciopone. Giusto. Mi sembra giusto. Ragazzi, andiamo. È vero, SGWM pure. Però intanto io sto morrendo di fame, quindi... Hai tu... Io ho troppa roba. Io ho troppo cibo, raga, non... Non capisco. Io dovevo andare a fare un'animale di me. Eh, sì, pure io. Il problema è che io devo cuocere la carne. Ogni volta devo cuocere la carne. Vabbè, 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 mi rimetto l'armatura. E intanto no. Vabbè, qua non lo so se... Era sicuramente... C'era un fiume. E a fianco al fiume c'era subito la pianura. Era sempre di qui. Sì, qua c'è... Una volpe. Due volpi. Dei volpi se abbiamo qui. Ma dove c'hai? Eh, sto andando un po' in giro così. C'è un cane qui. Eh, sì. Oh, pianura, raga, pianura. Subito. Non ho detto, sì, molto. Ti stavo spingendo niente. Ma è questo quale? No, non è questo quale l'incantamento. Non è vero, non... Mi confondo sempre con gli incantamenti del... Raga? Mi si è levata l'erba davanti agli occhi? Eh, no, perché di solito... Ti carica nei cant, l'erba cresce sopra la grave. O la sabbia. O la sabbia, ok. Tutto che non sia terra. E' una volta che ti avvicinica di chi il cant... Ok. Non è perfetto. Ma non è questa quale, c'era un'altra. Abbiamo tutto sbagliato completamente. Era questa qui. Era questa qui. Però... Buce... Arbocelli, veramente non... Le litre comunque... Non sono... Perché non ho... Qualcuno ha delle cose per craftare i... Gli raggetti, i favolosi. E a casa c'è la parma di... Di nuovo. C'è la parma di cani e zucco. C'è la parma di cani e zucco. Ti diamo una carta... No, ok. Ma come si sale su questa montagna? È impossibile! Ah no, ok. Ce l'ho fatta. Buono. Ragazzi, cantate... Ah, si vengono... Mentre mi butto dalla montagna. Vabbè, questo gemma non lo può fare, però. Ah, si vengono... Eh, stai mutando. Io mi sto buttando dalle montagne. Sono schietto volante. Manco in... Super Mario Maker 2! Eh, niente. No, 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 no. Non mi deve levare tutta l'armatura. Se non muoio subito. Vado avanti con lo stecchino meraviglioso. Questo qua si chiamerà stecchino meraviglioso. E ragazzi, qua non trovo qualcosa di buono, però, eh. Ah, giusto. C'è, non... Non mi pare che ci sia qualcosa. Oh, raga, forse ho trovato l'inizio del fiume, che è il lago. Beh, sì, G, eccolo qui. Ok, ho trovato il fiume. Che è proprio quello del... Del video eliminato. No, no. Villaggio! Ok, raga, villaggio. E cosa qua di abete? Un villaggio per un villaggio, quindi... Un villaggio... Un villaggio e un villaggio, quindi... Una mini volpe. Beh, dai, è pure un bel villaggio, diciamo, no? E cosa che un po' fanno da scudo gli alberi? Uh, belli. Qua non è le casse? Vabbè, non rubiamo dalle casse. Non è... Ok, bravo. Ragazzi, ci siete? Dove siete? Ah, eccovi qua. Non è le case. Ho fatto di piede infestate. Ho sentito un fiume, un silverfish. Davvero ho fatto di piede... Infestate. Beh, può essere comunque, non è che... Un silverfish. Cani, ho le ossa, ho appena appena... È pulito le buttate prima. Vabbè, vedo. Vai a prendere tanto legno. Intanto, SGVM, segnati le coordinate del villaggio. Fai uno screen a caso. Così abbiamo le coordinate del villaggio e facciamo la zona. Cioè, la... Ligna da bete? Sì. È pulito di lingna da bete, quindi sì. Poi, miglioreremo il villaggio sicuramente perché è fatto di cobblestone. La cobblestone è bella per costruire... Ma è con i silverfish veramente. Cioè, io non vorrei vedere perché sennò... L'ho sentito in silenzio. Ah, bello queste case nel... C'è un cartello. Magari il cartello potremmo mettere le insegne e magari casa di Maurizio. Casa di Maurizio. Guarda qui, casa di Maurizio. Mettiamo int1. Int1. Casa di... Maurizio. Maurizio. Quanta di me che ho prende? Tanta. Quanto? Due stack. Ma di più! Il villaggio è grande! Ma poi sarà sempre più grande. Ah, tanto, c'è due piani? Ah, due persone sono in questo... in questo casa. In questo casale. Intanto vorrei vedere un attimo. Attenzione, ma se c'è un villaggio... a fianco non c'è anche la torre dei pillager? Ci dovrebbe essere anche la torre dei pillager. Cosa facciamo così? Sennò la gente non può passare. In teoria sì, dovrebbe essere così. Ci dovrebbe essere da qualche parte la torre dei pillager. quindi potremmo fare un video dedicato al raid quando vedo avrà finito le mura. Però non... Non c'è assolutamente nulla. Perché non penso sia... Cioè, ogni volta è così... Oppure no, vado in F5 per vedere meglio, ma... Non ci sia... Niente, ma... Poi... non si è visto un mob. In tutto ciò, perché sono tutti morti. Però... Eh sì. Va bene. Potremmo far venire l'epilissia così, quindi non facciamolo. Intanto... No! Voglio vedere un po' i villager che ci sono. Ah, cosa vende una spada incantata. Potremmo metterci i nomi, c'è tutta una roba stranissima. Allora, Bedin è lì che fa cose. Quindi vado addosso tantissimo. Questo video era pubblicato alle 3 di notte. Come tutti i miei video. Cioè, vabbè. Un boscherello professionista che per rompere gli alberi usa gli alberi. Giusto. Bene, intanto... Eh... Facciamo vedere il nostro skin, no? Vediamole. Allora, questi skin sono molto belli. Sono bellissimi, secondo me. Sono lo skin più belle del mondo. Eh, non l'avete vista bene. Siamo completamente uguali? Cioè, di capelli, quasi. No, la tua... Intanto la tua non è tua. L'hai rubata. Intanto. L'hai rubata a Minecraft. Noi no, non l'avevamo rubata a Minecraft. Sono le skin zodiacali. Che... In caso vuole, che siano i nostri segni. Aspetta. Allora, questa qui... Tu stai dicendo che questa è la mia skin. Sì, quella è la tua skin. Cioè, l'hai sempre... Continua a fare il bosch... Provisoria. È vero, è provvisoria questa qui. La mia veda skin è straccata. Perché appena si può, Magari la play diventa un posto migliore. Si può attaccare la Minecraft SP. Così si scarica la... Ma io penso... Ma io penso che... Eh... Si potrà fare direttamente su... Su Minecraft. Spero. Magari c'è... Un vero skin editor. Dove per craftare le skin. Magari leviamo... Questo nuovo shop di bedrock. Che fa schifo. Però hanno detto che bedrock e java saranno uguali. Saranno simili. Cioè, saranno uguali. Però... Uno è bedrock. E uno è java. Quindi sono diversi, diciamo. Questo vuol dire... Che... Comunque ci dobbiamo ottenere lo shop. E tutto. L'altro Minecraft è molto intelligente. A far uscire la 1.16 per PS4. Come non sa per uscire la PS5. Sono... Troppo intelligenti. Allora... Ho fatto... Mi sono fatto 10 stack e 52. Va bene. Allora... A betas. Vai a fare il contorno. Intanto. Vedo un po' se cambiare. Quanto a termine ora? Come vuoi. Come ti viene meglio. No. Ok. Quattro va bene. Poi faremo le entrate. Questo qui sarà il villaggio... Normale. Però... Dobbiamo fare i casi molto più belle. Sì, sono medievali. Belle pure. Carine. Però... Cos'è sta roba? Non è una casa. Però per la gente è una casa. Cos'era? Cos'è? Per Minecraft è una vera casa. Perché in me che è... È una... È... No, no. È una... Un letto. Un buco con due spazi e... Un letto. Giusto. Intanto io bevo tantissimo. Mi fa bene bere. Bevete anche voi. E non l'acqua... E non l'acqua del bagno delle persone. Degli youtuber famosi. Perché è una meme questa. Non posso dire... Lo youtuber... La youtuber... In questo caso che ha fatto questa cosa qui. Ma vendeva... O vende ancora... L'acqua della sua vasca... Da bere. Il problema era che... Era che... Era altamente tossica. Ah, è finita. Ok, meno male. Ne è uscito uno anche prima. C'è visto. Però non ho detto niente. Ah, bello. Adesso che il WF ci strike al video... Possiamo... Oh, ma che figata. Poi la vendevo a 12 euro. No, be... No, no. È 11,99 e non a 12 euro. No, no. No, no. Perché giustamente bisogna essere... Eh... Sanziate tecnologici dietro... Che a vendere le cose un centesimo in meno. Bravo. Perché giustamente... Tu vedi una cosa 12 euro. 11 euro offerta. 11,99 euro. Perfetto. Il WF c'è il colazio. Il colazio. È successo un bordello. Cosa è successo? Il colazio. Il colazio. Il colazio. Il colazio. Va bene. Ma io non ho niente. Continuo a vedere un po' il design delle case. Allora. C'è una forma brutta. Togliete quella forma brutta. Sgm vieni qua. Togli questa forma brutta. Lei. Va giù. Lì. Lì. Vedi lì. L'acqua. 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 Cosa? Ah, giusto. No, così. No, no, no. No, peggio così. Copri. Togli l'acqua. Togli tutto. Bravo. Ok. Già meglio io. In realtà ma c'è un po' la pazzetta. Eh, vabbè. Ah, noi non è il canestro. Noi siamo con un po' l'acqua. Molto? Forte per prima? Ma, scusa. Vedo che tu sei esperto di incantamenti. Qual è l'incantamento nel tre denti? Quello che ti fa saltare tantissimo con l'uso in acqua. Beh, è stata Sara. Allora, non so stasera tipo... Non lo so. Ma come non lo so? Perché mai ti cambiano i nomi in continuazione. Io mi ricordo come si chiamava prima. Ma non mi ricordo come... Aia. Vabbè. Non si può sapere. Non si può sapere. Buono. In tutto ciò... Anzi. Intanto che... Voi... Fate il tutto. Io vado... G. 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 Vedo anch'io di rendermi utile in qualche modo. E vado a ripiantare. Anzi, no, 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 non piantare qui. Vai a casa che ci sta... Ah, è vero. Bella già che stavo stiappando, si muore malissimo. Ma perché ho fatto tutto il collo se non mi ricorda? Perché come Bull... Prima... No, Bull era invisibile. Era proprio invisibile, però qui almeno non può... Un limbo invisibile. Un limbo nero. Aia. Allora, l'unica cosa negativa... Ok. Cosa? Questo villaggio... Ok. È diviso in due da un canyon. Bello. Ci possiamo mettere del velo sopra. Ah, buono. Design. Belle scelte, sì. Design. Sto mucca piccola l'ho vista sei volte. Proprio sei. Muori. Non è morta. Non è morta come un'altra diventata. E' oppi sta mucca. Ah, però muore con un colpo. Il tre denti fa otto di danno. Come la spada di... Ma no, sì, no, no, non puoi, non puoi comprarla l'acqua. Non puoi comprarla l'acqua. Ah, solo per vedere. Però devi comunque berla in qualche modo, quindi... Ah, bello. Le mura vengono... Vabbè, potremmo fare un ponte qua, magari. Però i villageri potrebbero cremare. Eh, vabbè, intanto lo faccio io, allora, il sto ponte. Questa cosa che mi sono sopportato dove ho iniziato le mura. Ah, bellissimo. C'è una parte di una mura più grande e una più piccola. Allora, c'è il saia e pietre? No, vabbè, allora facciamo... Facciamo gli schifosi. E facciamo uno e il ponte era due. No, 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 no. Cosa, cos'era? Cos'era quella cosa? Ok. Ok. Poi è tutta lava al canyon, non è che... È molto qualcosa al canyon. Ebbè, è meglio io. Ho svegliato. Se io danno la lava, per lo meno danno. Che c'ho... Su due pezzi di ammatura. Io ho una con i piedini. Che è successo? Su due pezzi di ammatura. Ho un mini mini video. Ma... Scusate una cosa. Prima, vado a rivedere il video, ma... Avevo visto che... J-Hacks aveva Unbreaking 3 e basta. Cosa, cosa? Ma che cosa? Ma di più. Perché qua... Succherano le cose più inquietanti di Minecraft. Cose che nessun giocatore dovrebbe mai vedere. Cioè, uno fa un ponte e uno gli fa il muro davanti. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ma accadi! Con l'hug è caduto. E rimani là. Ovvio. Eh, infatti non dovresti farlo. È brutto. Ora, li sai lì più blocchi? Sei blocchi. Però li sai lì. Ah, ok. Fa un po' la... Guardalo lì. Io ho visto lui che cadeva shiftato. Cadeva poco alla volta perché laggava come un... Come un... Leone. Come un leone. Qual è? Cadeva a un frame alla volta. Andava a un frame per seconda. Le faceva... E... E... E poi è caduto. Per fortuna, purtroppo, è caduto solo sull'acqua. Non vuoi bene, Atomi. No, aspetta. No, non puoi farlo. Non si dice. Ma non male che te la... Che te la... Allora, Bedini, dove sei? Vieni qui. Devi vedere questo fenomeno. Eh, ora l'ho colpito. Ora è caduto. Ancora. Dove sei? Questa scena... Ah, vedi qua. Guarda qui. Non ci... Non ci voglio credere. E ora? Ma hai detto... No, 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 secondo me mi... Ti bersaglia. Ti bersaglia? Che palpebre! Mmm. Che forte, perché mi salgo con l'acqua. Ma è vero, perché c'era stata acqua per tutto il suo tempo e non si delitere all'acqua? Allora, facciamo così. C'è un oluk? Che veramente, io non ho idea. Guarda, 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 mi hanno male che non c'è. Aspettate, la faccio. Sì, 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 la faccio. 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 Sì, la faccio. C'è una parolaccia. C'è una parolaccia. Due! È uno zack. In inglese. Però vabbè, è in inglese. No, no, è in inglese uguale. È vero. Molto vero. Cosa? Vabbè, continuo a fare sto coso. Ci ho fatti delle risate. Vedendo se i gemmi soffrire. Però è colpa sua. Vabbè, scusate, raga. Guarda. BASTA! Per questo sta piovendo. Si affatti, si affatti. Adesso l'ho uccido. Non posso neanche ucciderla perché abbiamo l'armatura OP. Oh, basta. Togli queste mura ora. Toglile. Toglile queste mura. Perché fuori c'è una strada. E delle zucche. E un ponte. Ho fatto veramente male l'altro. Cos'è sto schifo? Volante pure? Oh. Per dire le mura intendo anche quelle che hai fatto davanti al ponte. Neanche queste. Io. Io non lo so. Io non lo so. Io non ci credo. No, fai lo strongolo, eh. Io l'ho fatto col tre denti che non fa danno. No, bestia. Perché c'è un villaggia rarrabbissima. Vai via. Non ti permettere. Allora, se... C'è qualcosa di brutto. Eccola, lo sapevo. Vieni qui, villaggia. Vieni qui, vieni qui. Ah, c'è l'acqua. C'è cinque smeraldi. Vieni sto tumore. C'è una spada di smeraldo. Oh, ti vedo il nome. Allora, vieni qui che c'è degli smeraldi. Cosa faccio? Non lo so da... Un'acchetta... E stai smeraldi. Vabbè. Quindi si diventa un buone per uno smeraldo? Beh, quello è buono. Uh, vediamoci l'ossetto perché c'è un bel po' di carbone. Intanto, ci sono due villaggia in sto villaggio. Dovevo trovare il modo per farli... Fare cose belle. Per farli essere di più. Comunque vedo, vedo, vieni qua. Allora, praticamente è successo che... Io stavo togliendo il... Cosa c'era? Una specie di muro. Vado qui e cado... E cado di sotto. Tantissimo, come stai adesso, vedi? Ma perché ho messo della linea qui, scusa? Ma perché ho messo della linea qui? Che detto? Vabbè. Ehi, 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 ehi. No gu. Intanto... Intanto... L'acqua e poi... Eh, sì. Quello l'ho fatto anch'io. Intanto Bidin... Finisci... Vabbè, no. Il murrettino mi sa che è troppo grande. Mistia. Intanto, il cartello era in... Iris, nuovo brawler. Isis, nuovo brawler. No. Ma Iris chi è? Non è un nuovo brawler. Sì. Arriva tra... Sei... 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 Non lo so, quattro giugno. Ma che fa? È tipo un robot. Tutti i robot. No, dai! Vabbè. Intanto. Ma cosa? È un robot, ma di che realtà è? È epico. Buono. Ah, qui l'ho finito anche gli epici. Certo, non lo fare... Leggendari. Altri due leggendari. Leggendari devono sfruttarsi due. Sei 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 sei. Siamo capiti con un... Oddio! C'è un villager guardone. C'era un villager... Che... Quei villager lì... Che era così. Era messo così. E ti guardava... Ti guardava malissimo. Non fare così in qualsiete. Perché se lo uccidi... Ti uccido io. Vabbè, vai via. Dal precipizio. Ma sei! 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 Ok. Vedo che fa le citazioni che non conosce nessuno. Vabbè, intanto che tu mi hai letto tantissimo... Via tutti. Via tutti. Cosa è crafting table. E crafto dei cartelli. Così posso mettere anche... Tanti in epsos. Spero ti piaccia. Ti piacere? Fa schifo! Ehi... No. Lo dicono praticamente tutti nei video. Stato un po' bene. Non è vero però, eh. E noi da bravi youtubers... Che facciamo? Bravo. Molto bravo. Ma che cosa... Mi molesta? Vai via! Vai via! Spacco tutto! Queste mure sono... Queste mure... Queste mure sono un po' brutte. Cosa è visto? Guardate, questa casa qui... Berimbastianich! Questa casa qui... Di chi sarà? Come si chiamerà questo tizio? Abbiamo Maurizio e... Sebastiano. Bedin? No, no, Sebastiano. Sebastiano. Buono. Questa è la casa di Sebastiano. Due metri quadrati. E anche troppo. Poi cosa promettiamo? Lint3. Mi si chiamerà questo? Giovanna Natale. Giovanna Natale. Bianca? Ok. Ah, ma perché stai copiando i nomi? Il prossimo sarà... No. Come si chiamava? Oddio, come si chiamava? Com'era l'altra? Nina. Vabbè. Però no. Cthulhu. Giusto, dai. Potremmo mettere int3. Cioè int4. Cthulhu. Che gente è aggitatissima in casa. Aspetta, vabbiamo a vedere un attimo. No, non possiamo scrivere così, sennò la gente si incazza. E mettiamo... Si chiamerà... Sos. Con due osi. No, con due osi. Cavoletti però vedo. Che succede? Che è successo? Int5. Qui si chiamava questo? No. Nino. C'era una cosa brutta. C'era... Lo dico al contrario. Agin. Scritto, però va bene. Di cui non c'era... C'era una cosa brutta. Adagini. Sì. Ha smesso di piove. Ce l'ha fatta. Buono. Molto, molto buono. Cosa vuoi vedere? Una cosa molto buona. Un mercantino ambulante. Si chiama itinerante. Che è successo, raga? Adesso tu mi devi spiegare. C'è cinque smeraldi. Per un zaffling di apete. Qui. Per un zaffling di apete. Uno smeraldo per un f... Uno smeraldo per due... Ah, sì, G. Cos'è stato qui di... È uguale, quindi si chiama per... Quello di prima... Come si chiamava quello di prima? C'era una stagione che si muoveva? Come l'avevamo chiamato? Sebastiano, l'unica stagione è Sebastiana. Ok. Non lo so. Uh, guarda chi c'è. Marocco si chiama. Che scusa? Ah, sembra quello della spada. Sì, guarda, io ho degli sbarati li prenderei. Qui non è tanto... Sono tutti uguali, raga. Qui non è sicuro. Qui non è sicuro. Qui non si ammazzano. Fanno così. Ho capito, quanto danno lo prendono. Ma con cuore di danno lo prendono. Che non è la... Io non prendo danno. Allora. Mezzo cuore. E allora? Loro hanno la vita come a te, quindi... Cadano 10 volte, possono dei... E no, c'è di Hulk. Quindi... Vabbè, no, no, ci sono altre case qua. Vediamo un attimo. Qua manca un ponticello. Ah, no, no, no. Lì c'è un'altra casa che vabbè. Non è protetta quella casa, eh. Brutta, brutta storia. Ah, Sos. Nino. Qui com'è? Marco. Qui è? Com'è? Lin. Qui? Nessuno. Due. Tre. Quanti ce ne sono? Quattro. No, tre. Uno. Due. Tre. Quattro. No, cinque. Mia, mia. Questo che non è una casa, quindi quattro ne mancano. È una chiesa questa. Una chiesa. Quindi. Ok, quindi mancano quattro cartelli con quattro persone, ma questa gente non c'è. Mi pare, eh. Non sape che. No, erano già tre. Questo villaggio che è nuovo, non l'abbiamo mai visto. Mi fa fa. Ah, quindi praticamente noi dovevamo fare un altro villaggio. Eh sì, ma cosa è più bello? C'è pure i cammini. Ma la cosa col cammino? Ce l'ha il cammino oppure no? Ah, sì, G c'era il cammino. Sì, c'è un coso affumigatore. Allora, la cassa di prima... Allora, qualcuno ha rubato. Qualcuno ha rubato la vostra... Ah... Da, qua ce ne sono due. Poteto. Ciao, quindi dico. No, io ho pane e cooked beef. Non tu qui? Perché? Perché se vado qui mi dice i comandi? Ma qui no. Vabbè. Poi c'è un ponte di legno fatto sopra ad un... No, ad un laghetto in mezzo ai fiori. Eh già. Non vuoi far partire il copyright. Eh, ma infatti... Vabbè. Le mura sono quasi tutte fatte. CG? Cosa c'è? Oh, cosa c'è sta roba? Cosa c'è sta roba? Non posso vedere. Non posso vedere. Oh. Oh. Cos'è? Oh. Chiudo. Vado a me non c'è. Sì. Aspetta. Ok. Elevati. È anche... Anche più brutto così, però... Beh, io credo proprio che... Per questa prima parte... Del video incentrato... Su questo qui... Su questo... Su questo qui... Può essere tutto. Adesso sono in guida di redommazzo. Penso che possa essere tutto. Eh... SG2... No, Beninfa è l'altro. Qualcuno scrive l'altro in chat. Qualsiasi altro, ma non una normale. Una... Ok. Qui contro... Qualcuno che scrive una... Una bella. Che abbia senso. Che si è fatto? Fatto? Beh. Oh, esatto. E c'è tutto il video. Lo stiamo... Bello stance... Così...